Ciao ragazzi, oggi voglio provare per l'ennesima volta a mettermi quella black mask, quella lì dove facevano tutti i video, dove gli tiravano fuori i pus, i punti neri, disgustosissima. In realtà l'ho già fatta tipo più di una decina di volte senza alcun risultato, ma l'ho comprata e se non la uso tanto credo che andrà male, quindi perché non finirla. Non solo, alla fine del video ci sarà una chicca ASMR, qualunque sia la pronuncia, per tutti gli appassionati di suoni e suoni. Vi farò sentire il rumore della maschera che viene strappata dal mio viso, ok? Direi che possiamo incominciare. Onestamente questa crema non è che abbia mai fatto tanti miracoli, però... Spero che questa maschera mi renda bellissimo. Questo mi riporta a quei giorni d'estate in cui mi facevo la maschera e poi uscivo per un motivo o per un altro e mi dovevo fare vedere conciato come un mostro. Delle parudi. Mi strappero le sopracciglia. No, sono andata lì. No, sono andata lì. No, sono andata lì. Non lo so, credo di aver perso tipo la sensibilità. La pelle brucia, la sento forse un po' troppo liscia, però ha sempre questo odore buonissimo. Vabbè, vi informerò se mi cadrà la pelle. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, mettete mi piace al video e... Ci rivediamo al prossimo video.